Tudor Fast Rider, l'orologio da polso che unisce velocità ed eleganza. Se ami la velocità e le emozioni forti, il Fast Rider è l'orologio da polso che fa per te. Il suo nome stesso, Fast Rider, suggerisce velocità e agilità, evocando immagini di piste da corsa e motori ruggenti. Il Fast Rider è nato quando Tudor ha stretto una partnership con la casa motociclistica italiana Ducati, nota per le sue moto sportive e performanti. Tudor è un marchio svizzero di orologi di lusso, fondato nel 1926 da Hans Wilsdorf, lo stesso creatore di Rolex. Tudor si propone come un'alternativa più accessibile ma altrettanto affidabile agli orologi Rolex, offrendo modelli di qualità e di carattere. Ducati è nota per le sue moto sportive e performanti, che si distinguono per il design e la tecnologia. Il Fast Rider riprende alcuni elementi distintivi della moto, come il colore rosso, la forma aerodinamica e i dettagli tecnici. L'orologio presenta una cassa in acciaio inossidabile o in ceramica a seconda della versione, con finitura satinata e lucida. La lunetta può essere in ceramica nera opaca o in acciaio inossidabile lucido, con scala tachimetrica incisa, che permette di calcolare la velocità media in un determinato percorso. Il quadrante è disponibile in varie colorazioni, tra quelli più conosciuti c'è il rosso, il giallo e il verde, che richiamano i colori delle moto Ducati. Il quadrante presenta tre sunquadranti adibiti ai minuti e alle ore cronografiche, mentre il terzo conteggia i secondi dell'orologio. La lancetta dei secondi cronografici è di colore rosso, per una maggiore visibilità. Il quadrante mostra anche la data ore 4 e 30, con una finestrella tonda. Gli indici e le lancette sono luminosi, per garantire la leggibilità anche in condizioni di scarsa luce. Il vetro è in zaffiro antigraffio, con trattamento antiriflesso. Una delle versioni più prestigiose è quella in ceramica nera presentata a Basel World nel 2013 denominata Black Shield. Questa versione è diventata ricercata, sia per la sua resistenza data dalla ceramica che resiste maggiormente agli urti e ai graffi, sia per il suo design moderno e accattivante. Il Fastraider è dotato di un movimento meccanico a carica automatica, con una riserva di carica di circa 46 ore. Il movimento è certificato dal COSC, Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri, lente che verifica e attesta la precisione e la regolarità dei movimenti orologeri. Il Fastraider è resistente all'acqua fino a 150 metri di profondità, grazie alla corona e ai pulsanti a vite. Il bracciale è in acciaio inossidabile, con maglie centrali lucide e maglie laterali satinate. Il bracciale è dotato di una chiusura pieghevole con pulsanti di sicurezza. Il Fastraider è disponibile anche con cinturino in pelle o in tessuto, con fibbia d'ardiglione. Il Patglie Grazie a tutti